io dico ma è possibile dico ma è possibile ma questa cosa qua mannaccia microsoft e la fatta di nuovo ma io dico ma che roba è questa avevano promesso che windows 10 sarebbe stato il sistema operativo definitivo avevano detto e invece non hanno mantenuto la loro parola ma che roba è questa l'hanno fatto per seconda volta io mi ricordo che la prima volta quando hanno promesso che tutti si sarebbero potuti attualizzare a windows 10 io attualizzai però poi è di paura perché era una versione beta sperimentale che il mio vecchio computer da scrittorio non avesse potuto l'opportunità di caricarsi i drives e quindi che poi con la versione definitiva di windows 10 si sarebbe briccato per così dire e quindi feci la la download non la upload cioè ritornai a windows 7 ma mi diedero 30 giorni di tempo adesso mi danno solo dieci giorni di tempo se voglio migrare da windows 11 a windows 10 senza perdere gli archivi che poi magari windows 10 è durato più di dieci anni perché io ho avuto il mio computer cielo ancora ve lo farò vedere con windows 10 dal 2010 a oggi è andato fuori servizio mi sembra nel 2020 gennaio 2020 qualcosa così ma io ho un computer con windows 10 dal 2018 19 20 21 sono tre anni e dicono che windows 10 andrà fuori servizio nel 25 18 19 20 21 22 23 24 25 7 anni cioè un computer mi è durato il sistema operativo 10 anni quest'altro mi durerà 7 vuoi vedere che dopo già che si consolida windows 11 a metà del processo uscirà fuori un windows 12 un windows 13 ma microsoft non avevi detto che ormai e non ci sarebbero più stati sistemi operativi e si sarebbe costantemente attualizzato windows 10 come mai adesso esce windows 11 comunque bando alle ciance passiamo al video 3 2 1 via con l'argomento del giorno download windows 11 migrate from windows 11 to windows 10 how to do it ecco innanzitutto che vi faccio vedere il mio vecchio computer del 2010 un dual core duo core duo dice lo schermo i parlanti e tante robe in giro comunque questo è il portatile del 2018 fine 2018 un lenovo io ho cercato addirittura nel cartone per vedere le caratteristiche tecniche niente l'hard guard è tutto ok non si capisce che cosa non va di ma adesso procediamo naturalmente adesso smetto di registrare perché video vi devo accendere il portatile per fare l'operazione ecco qua la notebook che in realtà poi dentro c'è scritto nel hardware nel software che è un laptop lenovo idea pad 320 qua dice pentium inside dell'entel e non specifica l'etichetta però è un quad core accendiamo il bottone appare la scritta lenovo adesso ci metterà un po di tempo a caricare quindi interrompo la filmazione adesso è un po più veloce con con questo windows 11 ecco qua è apparsa l'ora e poi anche il colore dopo io non vi ho potuto fare vedere questo perché ecco avevo pausato la registrazione allora qua pare la cont di diciamo di hotmail di naturalmente non vi faccio vedere quando metto la contrassegna mica so scemo ecco adesso che ho messo la contrassegna che poi sarebbe anche quella dell'otto mail del outlook eccetera mi appare questa schermata che si va caricando devo dire che l'esperienza molto fluida ma questo è un windows 11 ancora in fase poi c'è sempre questo che scorcia nel windows 11 e 10 che il maca fino che guardate come puoi scegliere solo un idioma di sistema operativo come predeterminato anche se non so perché a volte mi appaiono altri idiomi come nella schermata d'inizio ma vabbè è bello perché ha un disegno fresco infatti mi appaiono 4 idiomi ma come potete vedere ma io ne ho scelto solo uno poi c'è che dire c'è un sacco di cose che mi piace mi convince mi convince un botto batteria 97 per cento perché l'ho caricato ieri ma mi convince un botto il fatto è un altro non è quanto mi possa convincere adesso non so gli aggiornamenti le notizie ieri le potevo leggere ma ecco il menu contestuale sta qua come potete vedere e ci sono anche i programmi non ci sono certe applicazioni che le hanno spostate qua come per registrare il video cioè vedi c'è un sacco un casino anzi ecco quella caratteristica allora io ho cercato tpm window poveri ho cercato molte cose ma vediamo le specifiche di windows vediamo che si apre ecco qua allora qua vediamo che identificazione del dispositivo edizione eccetera eccetera sembra essere andato tutto bene perché non mi lancia più messaggi che 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 non è compatibile ma facendo correre questa applicazione wonder share e recovery vediamo se corre per esempio io aderisco al programma windows insider ecco nel programma windows insider qua non c'è bisogno dell'applicazione il pc non compie con i requisiti di hardware minimi raccomandati per windows 11 e può avere problemi e errori che affettano che affetteranno la esperienza questo in soldoni che significa che se ci troviamo di fronte a un'edizione beta è ancora un ibrido un anello di congiunzione tra windows 10 e windows 11 almeno così la vedo io quindi c'è il massimo della compatibilità perché ancora non si è installato il vero windows 11 che ci mostrerà in pieno tutto il suo potere infatti delle applicazioni stanno nella barra d'inizio che non le dovrebbe avere quindi significa che ancora si sta comportando un po come windows 10 se ci sono delle incompatibilità di hardware e windows 11 inizia ad attualizzare i drive ha bisogno di limitazioni molto forti e allora poi alla fine magari il tuo computer diventa incompatibile e poi fare il down ground però con una iso e ti cancella tutti i dati e io li perdo tutti e devo fare di nuovo uno spostamento di dati che mi ha preso tutto un giorno foto e video dal vecchio computer al nuovo con il cavo quello giallo arancione lan e quindi non mi conviene tanto io so che ci sarà incompatibilità con il mio computer perché già adesso me lo dice figuriamoci quando si va attualizzando windows 11 da qui a magari a dieci anni se con il se a copertura windows 10 fino al 2025 io invece al 25 non ci arrivo con questo computer se gli lascio windows 11 volevo farvi vedere per curiosità un'applicazione che dicono che funziona male ma tante funziona è meglio seguire un monito piuttosto che che questa ecco però ragazzi ragazzi già qua nel windows update programma windows insider windows me lo dice il pc non compie con tutti i requisiti e io ce li ho i requisiti hardware però evidentemente manca qualcosa non ti dicono cosa qua in via commentarii no non commentiamo nulla ecco che sta calcolando vabbè oggi oggi non è di umore oggi questa applicazione non è di umore non va beh oggi non funziona oggi da errore ieri funzionava comunque me lo dicono qua io che faccio vado a inizio magari sono precipitato vediamo un po se ci sono delle attualizzazioni e basta comunque se mi continua a parire la scritta il pc non compie con i requisiti minimi di hardware e comandati io non voglio giocarmelo magari mi sto sbagliando magari mi sto facendo prendere dal panico e se aspetto dieci giorni le cose cambiano ma se aspetto dieci giorni e le cose non cambiano ma magari peggiorano perché arriva la versione alfa quella definitiva io mi gioco al computer perché è così come ho disinstallato windows 10 dal mio vecchio pc windows 7 così come perché avevo paura che i drives e altre cose non funzionassero bene d'altra parte è un computer questo del 2010 quest'altro è del 2018 fine 2018 ma magari è stato costruito nel 17 chissà nel 16 comunque molte caratteristiche le sono buone l'ho visto da qualche parte il fatto che non ci avrà magari un acceleratore grafico un qualche cosa che non ottimizza puoi avere problemi e errori che affetteranno la esperienza ma non ti dice di più qua ti dice più informazioni ti dice più informazioni prima che si apre più informazioni ecco qua le informazioni che ci dà come preparando per la preview the build of windows 11 e qua più in basso il trackpad è veramente una porcheria ecco quello che ho potuto leggere io allora windows 11 hardware requirement se tu stai nella fascia verde puoi essere abilitato per il dev channel che è esistente e beta channel esistente se tu stai come me nella fascia gialla puoi essere sorteggiato per il windows 11 insider prebiò però attenzione attenzione warning installation of pc bello windows 11 hardware requirement canter e sulth in a degraded experience i and san fiature may not work properly e poi dice pc will be moved to the release preview channel with an option of rejoin dev e beta channels warning installation on pc bello windows 11 hardware requirement can result in the graded experience and san fiature smile not work properly non ti dicono queste fiature questi queste cose che non funzioneranno bene che cosa saranno magari non funzionerà bene il microprocessore o la memoria e poi not meeting minimum hardware requirement for the windows inside program limited exception pc will be a love to preview windows 11 updates only via click thing in the general availability pc will then need to take action to go back to windows 10 and will not be eligible for future windows 11 preview bills e poi niente di beta channel per quindi io rimandrei con un sistema operativo in fase sperimentale per dare informazioni a loro ma che non sarebbe utile al cento per cento come adesso e quindi a che mi serve solo per essere windows insider poi non posso essere e ne ha for windows insider preview beta bills invece se avessi il verde l'etichetta verde sarei elegibile per windows 11 inside preview bills a san option al upgrade at letter date c'è in pratica rimango fuori da tutto vedete qual è il mio problema come il problema di molti che si sono lamentati e che il pc non compie con i requisiti minimi dell'hardward raccomandati per windows 11 e possono avere problemi e errori che affetteranno l'esperienza quindi e non compie con i requisiti minimi dell'hardware quindi non so se sono nella addirittura nella fascia arancione gialla o addirittura nella rossa perché dice minimo un hardware coerimento for the windows inside program windows 11 hardware e chiariment bat meeting minimum requirement for the windows esistono in quella arancione ma allora che faccio beh io non voglio rischiare questo computer me l'ha regalato mia madre con tanti sforzi allora vado qua nell'opzione ormai vediamo un po ecco ecco qua sistema laptop fv6 l3 dd h idea pad 320 15 a sono riuscito a trovare dove devo andare tutte le caratteristiche del sistema e qua dice recuperazione rinizio inizio avanzato allora facciamo così che meglio vado a configurazione di nuovo perché non ci sto capendo più niente in questo menu contestuale configurazione ecco ecco qua come bisogna entrare in sistema poi scendere recuperazione recuperazione e qua c'è proprio per dieci giorni troverete non restabilire installare windows ma vol qua c'è in spagnolo non so perché volvere queste questa versione non funziona intenta ritornare a windows 10 speriamo di poter tornare e poi non ci potrò più tornare a windows 11 ma se no no ecco ritornare a windows 10 se non ho i riferimenti e non puoi devolvere alla versione anterior solo con la batteria in giù devo metterlo di messo il caricabatterie vediamo che altro mi chiede mettiamo migrare a windows 10 download questo non tarderà molto me lo auguro dovete sapere poi sempre ci sono dei programmi che mandano i loro messaggini del cavolo quando nei momenti più critici no dovete sapere che a me mi è venuta la brillante idea di attualizzare perché io avevo già sentito che era uscito qualcosa tempo fa forse un mese fa due giorni fa il computer alle 11 di sera anzi no avevo già iniziato da prima e non si caricava e non si caricava connessione lenta alla fine ho scoperto che potevo far parte o di quelli che partecipano al miglioramento di windows 10 oppure installare partecipare essere un windows insider per windows 11 e io ingenuamente feci l'attualizzazione la grande a windows 11 alle 11 e mezza 12 di sera sapete quando finì di installarsi windows 11 alle 5 e mezza del mattino a controllare se si cade non ho dormito in tutta la notte per poi sapere che il mio dispositivo nuovo comprato nel 2018 alla fine del 2018 non era buono non è buono per cui e quindi io non mi voglio rischiare a mettere un qualche cosa che mi trasforma un computer che comunque è nuovo perché insomma già 19 fine 18 quindi 20 21 già due anni non gli contiamo i messi del 18 è riuscito prima però per me a due anni e qualche mese per forse due anni e mezzo non me lo voglio rovinare per un sistema operativo che non si sa poi che risultati darà perché dice che il mio computer non è idoneo e se idoneo chi se ne frega io lo tolgo lo stesso ma adesso gli rispondo al question time essi cari amici miei perché proprio così bisogna rispondere a delle domande e loro vogliono sapere il motivo allora io gli dico innanzitutto mai apps or the vis don't work on windows 11 il mio le mie applicazioni o il mio computer sarà non funziona windows 11 windows 10 sembra più facile da usarsi ecco complichiamo gli la vita la microsoft facciamogli pensare che windows 11 una porcheria windows 10 e più veloce io gli metodi sì non gli dico no per carità era più più bello windows 11 tanto non lo posso utilizzare windows 11 non me l'ho fatto utilizzare potevano mettere delle norme meno restrittive windows 10 sembra più reliable che non so che cos'è ma non me ne frega metodi sì per un altro motivo e poi più informazioni ecco io ho scritto una bella ramanzina perché non è che me ne vado senza sbattere la porta il mio computer è nuovo di fine anno 2018 a meno di tre anni ma non capisco perché non risulta idoneo alla installazione di windows 11 mi dispiace molto ma se continua così correggiamo perché qua il correttore non funziona così ma la bella centro non lo metti dovrò prendere un alt un altro togliamo ad un altro sistema operativo in futuro magari lios della apple o linux o android io che da tutta la vita uso windows sin dal lontano 1995 quindi voglio dire capito poi mi dice per soluzionare problemi mettiti in contatto con il supporto tecnico ma che mi possono dire di fare il test dell'hardward e quindi facciamo seguente quindi io ho fatto la ramanzina gli ho detto che brutto in tutti gli aspetti windows 11 mentre invece non è così perché non l'ho potuto provare questa è l'edizione preliminare dell'edizione beta se già nell'edizione preliminare di beta mi dice che non è buono il mio computer per ricevere windows 11 immaginiamoci nella edizione beta o nella edizione definitiva alfa quindi seguente senza rancori cerchi attualizzazioni prima di tornare indietro cerca di installare gli ultimi attualizzazioni può darsi che risolvono il problema io ho cercato prima l'attualizzazione no non risolve niente è possibile che questo processo tardi vari minuti e non potrà usare l'equipo rasta che finali se non potrei più utilizzare il computer fino a che finalizza lascia il computer attaccato alla corrente e acceso quando ritorni dovrai che vuole installare di nuovo alcune applicazioni programmi tu perdi la possibilità di andare di nuovo a windows 11 recupera fatto una coppia di sicurezza di tutti i tuoi archivi non dovrebbe affettarli però è migliore stare preparati ma chi se ne frega qua devo soltanto togliere il pendrive perché magari mi cancella pure quello che non c'è nulla vediamo ecco io in pratica preferisco perdere togliamo il pendrive preferisco perdere ed è la kingston preferisco perdere i dati che poi li trasferisco di nuovo se qua mi dicono come potete vedere che non è idoneo non è che ci pensi ci pensi ma no non ci penso conseguente note che dessine acceso il few user a password non non ti scordare la password per windows 10 grazie per aver provato windows 11 se tu il few end up missing in prove se al security a start up come back to windows 11 se tu perderai la sicurezza e vorrà sperimentare che ne so che ritorna a windows 11 sì quando me lo faranno pagare ritornerò certo ritorna a windows 10 track poi non so se faccio bene o male se mi affitto ma veramente con windows 7 ho fatto lo stesso non so se mi affitto faccio bene o faccio male ma veramente con windows 10 ho fatto lo stesso con il mio computer che aveva chiedo continua avere windows 7 perché ecco ho detto un nuovo sistema operativo non computer con più di dieci anni succede che poi magari va qualcosa male si installa male già ho problemi di drive nel mio computer vecchio immaginiamoci se c'è un sistema operativo che necessita di altro in questo caso il computer non è vecchio la l'atto c'è appena due tre anni forse quattro magari uscita prima ma mi dice che non è idoneo allora che rimango a fare no ma poi tu potrai sperimentare essere windows insider certo gli faccio da cavia da con il dietro dell'india da porcellino dell'india a loro che continueranno a sperimentare nel mio nel mio computer tutte le varianti comunque bando alle ciance questo video uscirà come premier forse la prossima settimana perché questo venerdì voi lo sapete che è uscito già un video questo venerdì quando vedrete questo video che vuole dico a fare ma adesso stiamo a mercoledì venerdì esce una premier che ho fatto quando sono andato a ritirare i soldi che mi ha dato youtube 98 dollari perché mi hanno detratto le tasse e adesso vi farò vedere in anteprima volevo fare un tutorial ma poi alla fine non faccio nulla perché vedo che tutorial nel mio canale sono poco seguiti ma vi faccio vedere come spesso i soldi beh non tutti per fortuna ho potuto risparmiare perché è stato un buon affare in un cellulare nuovo di quest'anno ma di fascia media media bassa intanto dice restaurando la versione anteriore di windows quindi sta funzionando vediamo dopo il risultato questo video lo diterò in risoluzione bassa perché altrimenti quanto ci metto ad editarlo forse vendrà 40 minuti di video ecco questo cellulare è il motorola moto it seconda generazione del 14 che mi ha comprato mia madre a fine 2015 per natale 2015 e per il mio compleanno del 26 gennaio come vi ho fatto vedere in molti altri video c'è una sola camera di 13 megapixel full hd e una camera davanti messa qua di 2 megapixel sempre in full hd aveva una batteria di 2300 e passa micro hertz o qualcosa del genere senza impronta datilare senza nulla adesso un cellulare che è uscito qualche mese fa forse aprile e che mi sono comprato e sempre di fascia media media bassa mi sposto mi rimango sempre su quella fascia e il moto e 7i power che sarebbe una riedizione di quest'anno di un cellulare di anni fa addirittura che era il moto e 7 e 7 il moto e 7 sta per dire moto serra quindi gli sta per innovation mi sembra è una rinnovazione di un modello anteriore però questa volta in chiave light cioè l'altro ci aveva 43 megapixel di camera ci aveva tre camere non sono una cosa del genere questo c'è la bellezza di due camere una sempre da 13 megapixel e l'altra che è un macro noe non un grandangolare di che fa le immagini sfocate di 2 megapixel e poi c'è il flash sotto e già nel logo di motorola e l'impronta del dito no la davanti vediamo che ha un bel display lo si può paragonare al vecchio cellulare mio vecchio per modo di dire perché ancora funziona bene e c'è c'è quanto c'è in pratica questo 32 gigabyte di memoria interna memoria ram di 2 gigabyte schermo di 6,5 pollici invece che di 5,2 soltanto che è una relazione 20 a 9 invece che 16 a 9 quindi per quello è largo uguale quasi ma lungo di più perché in proporzione ai pollici è un po più stretto perché altrimenti non starebbe nel palmo della mano sarebbe come un samsung galaxy note 10 20 che è enorme non lo puoi tenere con una sola mano invece questo sì perché allo schermo 20 a 9 effetto wild screen panoramico poi c'è un accelerometro di prossimità un accelerometro e sensore di prossimità fps e camera da 13 e da 2 macro dietro e camera frontale è quello che ho detto non mi ricordo esattamente dicevo la camera frontale e di 5 megapixel f 2.2 la batteria è enorme perché questo cellulare il motorola moto it seconda generazione con 2000 passa di micro non so che ampere si arriva al giorno poi con tante applicazioni eppure troppo va beh che questo non lo canno non ho fatto l'errore di caricarlo con tante applicazioni perché ormai non mi interessano più solo ciò sprecher youtube studio youtube instagram ne ho messe poche poi dovrò mettere un editore di di foto di video per ma ormai le versioni di instagram e di facebook già nel loro editore però con questo due o tre giorni arriva al 50 per cento vabbè che io non lo utilizzo bestialmente tutto il giorno accesso adesso oggi non lo accesso ancora però ecco c'è molte cose costa costa poco relativamente poco qua lo stiamo vedendo è una bestia ed è incredibile e incredibile 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 come questo che era un cellulare di gamma alta o media alta nel 2014 quando è uscito il motorola moto it seconda generazione e che è stato premiato in tutto il mondo perché è riuscito meglio del primo motorola moto it molto meglio con molte più qualità potente il doppio gamma media alta se non alta se non top gamma della motorola sia stato superato da questo nel 2021 che di fascia media o media bassa quindi un cellulare comune corrente al giorno d'oggi guardate come grande guardate il potere ma magari già sì una camera da 13 megapixel dietro ma la risoluzione incredibile e poi cena un'altra ma macro da due che prende un po sfocato ma e poi con un sistema operativo android 10 voglio dire e mi raccomando non comprate cellulari con android inferiore a 7.1 perché ci saranno dei problemi per la certificazione delle garanzie nella navigazione in internet perché c'è finisce quest'anno nel 2021 un contratto fra due aziende di certificazione di garanzia e quindi ci saranno dei problemi a navigare con per esempio questo cellulare che c'è l'android 6.0 perché quando l'ho comprato ci aveva il lollipop e si è attualizzato nel 2016 a metà 2016 con il marshmallow 6.0 e invece questo non avrà problemi perché c'è l'android 10 installato già di fabbrica e che non si può attualizzare comunque perché di fascia bassa o media bassa o media chissà a quale fascia appartiene all'android 11 addirittura molti tecnici dicono che questo un cellulare di gamma bassa e questo sia stato un cellulare di gamma alta guardate e in cinque anni che differenza c'è stata tra la gamma alta e la gamma bassa se questo fosse è stato venduto nel 2014 il motorola moto e 7 i power sarebbe costato il doppio il triplo di questo cellulare di gamma alta non so se mi spiego ancora sta restaurando la versione anteriore di windows probabilmente ci metterà cinque ore se abbiamo fortuna volevo fare un video corto invece ho fatto un video super larghissimo parlando di tante cose mi rimane meno di un minuto e mezzo quindi vi saluta il vostro saint jean grazie di avermi seguito in questa downgrade da windows 11 a windows 10 io per tutelare il mio laptop nuovo del 2000 e di fine 2018 preferisco fare questa operazione vi saluto e alla prossima ciao ciao e mi raccomando continuate a seguirmi abbonatevi al mio canale e azionate la funzione grazie che è nuova per farmi delle donazioni se questo video vi è piaciuto ciao con la nuova funzione grazie come vi dico nell'anteprima che uscirà questo venerdì non avete bisogno di abbonarvi al mio canale ma mi fate un'unica donazione per il video e poi partecipate nelle super chat delle mie premier così mi regalate anche lì del denaro ciao ciao io sono disoccupato mi aiuterete tantissimo quindi fate clic su grazie mandate super chat e abbonatevi al canale